vecchia roccia e benvenuti a questo nuovo appuntamento con luca grax 89 solo matti sul tubo continuiamo la parte 2 del salvataggio di roland e non siamo riusciti a salvarlo l'ultima volta per colpa di questi mecc assassini è colpa del tempo scusate ma che cazzo d'anno mi hanno dato e non quello della apple ricordiamolo beh comunque questa partita parte molto incazzata sì anche perché eravamo comunque a metà a metà la missione ma i max si disfano sono stappelli le braccia assolutamente sì a seconda di dove li colpisci non ucciderò non ucciderò ok no sto morendo morimo ti vedevo traballare attorno la roccia non lo so perché ci stanno sparando no io butto la torretta ma che figa o mi sento dio pensa se gli staccassi le gambe non cambierebbe molto è finita c'è uno psicopatico qua davanti ma perché hai attratto chi è che mi ha sparato ok ho sei punti vita è meglio se butto la torretta ciao ormai non c'è più un mecc che ci spara perché non hanno le braccia ma sei a terra sei in piedi sono meglio di loro ce n'è uno ok non so dove tu sia sembra il titolo di una canzone di pausto papetti ma va bene qua ce n'è uno c'è gente qua che sta malissimo ma va a fare ma dov'è la mia arma quella facca voglio arriverei a darci una mano no tranquillo dovrei riuscire a eliminarlo tranquillamente dimmi eh sei bisogno ok penso aver bisogno aspetta no 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 ok ce l'ho fatta ce l'ho rifatta ok non ti vedo c'è problema tu non guardarci ma tu ti vedi questi kamikaze maledetti ma io se terdo tempo a staccare braccia o bracci ma vaffa ok ci sono ci sono non ci sono più mi sono messo proprio davanti per non farti sparare di oltura vai ok tu col cecchino come va la finché riesco togli le braccia si va bene abbiamo appena visualizzato il nuovo trailer demo di pt in silent hill siamo rimasti scioccati dalla bellezza e abbiamo deciso di acquistarlo assolutamente insieme alla pression 4 che ruberemo all'iter copp durante il 20 per cento di sconto di domenica così si pensavo all'armato col bassa montagna vabbè beh rispetto ai nemici di borderland 1 preferisci i meccanici che troviamo qui o altri nemici civili psicopatici ne ritroveremo adesso però sa che in questo punto qua se vuoi trovare delle munizioni comunque se vai su da questa scala ci sei? no per un cazzo qua 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 dietro dietro sono qui sulla scala sali sulla scala ok ti lascio tutte le munizioni che io ne ho già prese vado su e li colpisco dall'alto che mi sembra l'unica cosa da fare prendo anche io delle munizioni è qua sopra ma cazzo ma ho un'arma un po' di me oh 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 crepi prima tu che io ma infatti la vedete non sto capendo di una città ma tu sei dietro di me? mi hanno qua sono una ok ce l'abbiamo fatta un livello ti è salito? dietro di te! qual'è dietro? quello dov'è il culo se anche voi mette vicino ragazzi questo mettete in carcere il viso di luca c'è un esploso mentre passava però se sei visto la scena la vedrò tra poco stop mio dio sono ancora vivo per miracolo non so dirti come a volte quando giochiamo a questo gioco mi sembra di giocare a Dark Soul a Dark Soul il livello di difficoltà è quello eh secondo me no no ma che per il livello di difficoltà perché chi ce l'ha più lungo vince il fucile non parli ok è meglio specificare se non avesse mai giocato a Dark Soul cioè se devi la lancia vincente gli squadroni erano nessuno ma dove dove? oh di chiama te? cioè lo chiamavano amico di guerra no devi dirmelo però quando muoio ho detto ma non le lascerà uno tanto sto cercando di salvarmi pure ma la vedo dura tanto tagli vero quando muoio io? sì se vuoi sì no questa è la legge tieni solo quando muori tu così sembro un eroe ma io non muoio cioè non muoio adesso cioè oggi non sono ancora morto c'è un coso volante ma c'era perché hai un filato compagno di guarda ovvio ovvio mi troverà questo motivo arrivo dove sei? sono dietro di te ok vai 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 vedo di tenerli impegnati dove stai? lì che striscio ma dove? in mezzo al biscio piccoli rapper che crescono aspetta che forse riesco a eliminarlo sono morto sono morto no sono morto sono vivo chiamavano Gesù scoppia 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 nuova energia e tu sei morto? no ok ok salva Roland oh qua è dura bisogna giocarsela usando i muretti altro che Gears of War detto questo è la Roland ok aspetta 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 ci penso ah no minchia dobbiamo eliminare ci butto la torretta è l'unica io vado là dalla macchinetta sono sulla tua destra se mi cerchi non ho letto ok mi hanno già distrutto perfect se stai morendo dimmelo prima cioè appena appena vieni colpito prima sei morto? no ok deve essere attento la torretta è proprio prima dei maroni no sai? non ho più bonde non so come distruggerli vacca voglia distruggerli avevo solo 6 proiettoli distruggerli distruggerli che cazzo è sto? che cazzo? no quello uccidi quello uccidi quello subito quale? quello volante? quello l'ho fatto io ok grande tu manca quello che cammina io manca quello il caricatore gun ha uno scudo comunque dobbiamo fermarlo? sono morto Luca ok arrivo dove? torni indietro torni indietro ok sono morto è brucio sto esagerando devo smetterla di più se ti sei riconosciuto fatti poi se ti sei riconosciuto clicca mi piace alla pagina facebook di lucagrax89 ma noi dobbiamo uccidere quello grosso? no a parte quello ma sono senza munizioni con tutte le armi no questa no si questa si ok con questo posso andare avanti sii ok torni indietro torni indietro il muretto che arrivo perfetto dai 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 fatto via da questo inferno di letame ma dobbiamo uccidere che non ho ancora qui il fucile è il liquidator del 1990 è stato l'unico no sono senza munizioni ancora non ho più nulla non ho più nulla sei tu quello che sta correndo verso la morte ti ho distrutto il corpo mi devi un cappuccino in una prioche cosa? le hai trovate? le ho anche preso ok se ne sono altro cerco qui in zona per caso non posso tornare poi si si uccide non posso arrivare non lo so gli sto sparando abbattilo te l'ho indebolito è l'unico a chi? l'unica cosa che posso fare è lanciare la torretta vai vai sparagli poi dicono che siamo amici sei morto? si cazzo non ti preoccupare che fra un po' ti ragungo ecco vabbè dovrei nascere di fronte a te magari ci devo salvarti no sono serio ce la puoi fare a meno che non mi rialzo io ecco che tu hai eliminato? vacca voglia mi rialzo vabbè anche perchè sto qui poi muore dove c'è fucile incastrato? tu ti sei incastrato? ma che cosa? hai visto il caricatore duro? qua 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 dove? mi sembrava strano visto andiamo a dedust a dedust? arrivo a dedust o finiamo qua il video? no no continuiamo intanto dedust? dedust vabbè abbiamo no incontrati nel campo di prigionia uccidi i vitri e bla 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 no questo è duro te lo dico corto ma duro voi non sapete perchè Luca perchè Luca stiamo redendo ma Luca in pausa ha appena detto oh vecchio questo livello è corto ma duro guardandomi con aria perverso non è vero cioè che avevo detto uccido un riparatore con un colpo e gli do a cuoco beh io sono aumentato però di di uno qua davanti è morto è morto è morto in piedi ok è morto in piedi però non ho mai capito chi era ahia caricatore di merda te quella vita di allora è un lag un bug un lag ma perchè ho fatto una minchiata del genere chiedimi perchè perchè? perchè dovevo ucciderli in generale aggranatevi si vede che tu tra te lo sei ingegnato no non ancora si perderà poi questi sono da combattimento ma mai il quindicesimo se ne va a proposito bisogna tenere d'occhio anche il tempo se riusciamo riusciremo oggi a salvare Roland se no andiamo alla parte 3 a proposito ma dovremmo esserci Luca Grax89 se arriverai a 20 fan facciamo 3 ok che ci regalerai di bello? facciamo un video speciale su un determinato argomento videoludico che tratterò adesso devo ancora studiare nella banda delle norme nei videogiochi si si può fare questa realtà è io? hai un'idea? cosa facciamo? oh pacca no tiro la sentinella tiro la sentinella fanco è resistente questo qua sui cidi che saltano no noi le faccio danno subbiata mi però ok tanto ho fatto un'altra sfida di livello duro c'è ogni tanto non mi riesco a fare anche a me quelle sfide le fai è quello lì il coso che dobbiamo distruggere ok o adesso mai più ti uccido l'aeroplanino è quello lì che dobbiamo distruggere infatti è un granatiere questo che ho davanti ma morirà ben presto ma anche a me che figlio di quella ma dove cazzo ma è? come cazzo è andato? qua sopra c'è un bastardo bene beh ecco è un po' più ricercato di miraggio oh franco sono... sono andato a destra ci stanno sparando di tutti Jesus Christ is a superstar grazie Gesù Aldo ma Gesù si bestemmiava? si bestemmiava ma porca si bestemmiava chi bestemmiava? esatto domanda lecita domanda domanda lecita visto che non poteva dire porca la nonna insomma no seriamente queste cose quando le pensi nella notte non dormi soffro di insomma da anni e anni e anni cambia allora argomenti per dormire ho provato quelle pecorelle ma è stato peggio e beh anche questa potrebbe essere una fase no vacca boia c'è troppa gente in questo staccante braccia non ha le braccia il V4RB3N stiamo mica tu no devi aiutarmi qua eh magari se mi viene a tirare su ti aiuto volentieri dove sei? facca boia stai venendo bruciando ahahah come sto bruciando? non ti riesco a dire quando ti riguarderai i video vedrai che arrivi verso di me bruciando che bella barba uomo vissuto quelle che il nostro amico Giancarlo diceva la mamma quando la mamma che deve parlare c'è che erla ahahah 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 ma ci sono i barilli esplosibili li ho visti adesso cioè noi che non aspettiamo a farli sottolineare dovrà finire di dire cagate poi vacca boia c'è il laser game questo ahahah il laser game ciao Paolo vuoi vedere il mio fucile mi ha colpito ecco c'è un coso che striscia ecco fine ok ce l'ho fatta sono vivo liberare la cosa sto bruciando bene beh ti voglio dire ti saluterò mai più ma si ma sta andando mi sembro uguale all'alpha ma si ma sta andando vabbè intanto gli butto anche una granata che è l'ultimo vacca boia vacca boia vacca boia vacca boia vacca boia tutto lo odio non ho capito perchè i campi e i luni me li devo cucciare sempre io ma va è perchè io sto pensando al v4 trend che non muore come bug no sei morto posso venirti a salvare ho bisogno che continui a distrarmi stai vivo stai vivo che sto arrivando sono ben dietro l'angolo ce la fai o vengo? certo perfetto non ce la faccio per altri 3 2 1 non ce la faccio più vacca boia vacca boia non posso morire ecco lo dico già dai c'è un gand che è uno di me io lì io lì ok mi è tornata la vacca boia mi vuole uccidere con il raggio laser raggio laser abbiamo uno scudo eh uno scudo uno specchio stupidamente no vacca boia che cazzo di rabbia friga rabbia friga non sai che cosa è sfuggita catastorie sto acquistando munizioni catastorie no aspetta lo ammazzo lo ammazzo ce la faccio ce la faccio me lo sento ce la faccio sei lì 1590 ma hai ucciso quello grosso? si ho salvato roland ce l'abbiamo fatta ok è salvo roland ci da una mano guardavo lì finalmente roland roland dove è? beh mi piace essere un trick tutto caldo quando arrivi fammi un fisco che vuol dire che sei ha messo giù la torretta difensiva super iper mega ultra saiga raccogli qui ma com'è pieno il granato è pieno ok qua energia franco ok eccomi è arrivato il re ce l'hai con te roland? no perfetto perchè ha con me? lo sparo anch'io mi ha nascosto bene no sono due era con me roland cazza roland lui è rimasto su cazza roland? e qua roland mi gioca a me cazza roland tanti due ci sono pure quante? vai 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 un caricatore duro sta morendo ma è lì con te il bastardo? si un bastardo intendo cazza cazza roland bella si è un po' si ma camion stai decisamente si roland cazza le palle non riesco a mirare oh ma che cazzo no edam cambia il tuo ruolo dov'è? ah qui è bella giustamente no ma è finta la cosa vacca boia roland dovrebbe venirci a salvare ce ne sono due tre si dove cazzo? dove cazzo? dove cazzo? mi sono incastato mi sei incastato in una roccia ma sei serio? eh si cosa faccio per salvarti? eh lo so sto cercando di uscire se non cosa la faccio se lo faccio insegniamo la missione no vi prego non cancellarla questa parte che ha tirato il colpo in fronte è morto molto ma portarsi su sta andando avanti da solo ah no è ancora lì te lo dattilo c'è un caricatore duro morto ok ci abbiamo fatto consegniamo a roland finito no c'è ancora lui non si lascia indietro nessuno giustamente obiettivo sbloccato stoppiamoci per oggi vecchia rocce abbiamo salvato roland questa è la fine della parte 2 di salviamo roland io sono lucagrax89 con solo matti sul tubo e ci vediamo alla prossima puntata con borderland 2 ciao vecchia rocce mettete un gran spolliciamento di pollici su questo video fate una facebook lucagrax89 e solo matti sul tubo e il canale youtube lucagrax89 bella vecchi ciao